Banana In botanica, la banana è la bacca della pianta del banano della famiglia delle Musacee. La banana Cavendish, ovvero la comune banana gialla dal sapore dolce, è la variante maggiormente commercializzata nel mondo dagli anni 50. Dall'inizio del 1900, banana è anche alla base degli studi sulla slapstick comedy. Poi Alberto Sordi ne trae l'ispirazione per scrivere la sua Mando vai se la banana non ce l'hai. Poi diventerà Ma cosa c'entrano le banane? Le banane c'entrano sempre Dice Banana Joe nell'omonimo film di Steno con Bud Spencer dal nome Banana Joe Banana si è un film di Woody Allen Una serie televisiva britannica del 2015 Un corto coi Minions La serie animata Banane in pigiama Banana Yoshimoto C'è una città dal nome Banana nel Queensland A Capoverde, Chiritimadi, Nigeria, Congo Un'isola, un lago e un fiume Le banane sono ovunque Le banane sono come un meme Le banane sono contagiose Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte Le banane sono uno spettacolo che parla di idee Di diritto d'autore Di plagio Di creative commons Di wikipedia Dell'autoscatto del macaco Di macachi Di altre scimmie Di King Kong Di Cheetah Di Charlie la scimmia Del pianeta delle scimmie Del più grande uomo scimmia del presto cene L'antropocene L'evoluzione L'evoluzione di un uomo L'evoluzione di un'idea L'evoluzione delle idee